Duro attacco dell'opposizione consigliare di Bellizzi nei confronti della gestione del Water Festival, evento organizzato dal Comune tenutosi la scorsa estate, a far scattare l'allarme fra i banchi della minoranza i costi dell'iniziativa ed in particolare il denaro legato alle sponsorizzazioni, una situazione sulla quale il capogruppo Pino Salvioli vuole fare luce in tempi brevi. Il Water Festival è una manifestazione comunale che insieme ad altre due manifestazioni è stata finanziata dal Comune per un importo complessivo di 25 mila euro, salvo poi vedere che la stessa manifestazione veniva pubblicizzata tramite brochure e manifesti dall'assessore a ramo, la signora Cristina Florio, in cui si ringraziavano i numerosi sponsor per aver sostenuto questa manifestazione. Noi non entriamo nel merito della qualità della manifestazione, ma nel momento in cui si dice che 30 sponsor hanno sostenuto questa manifestazione, noi abbiamo fatto un accesso agli atti per capire in che modo fossero state gestite queste risorse finanziarie. Perché se il Comune finanzia e non viene stornato un euro, nonostante il contributo dei privati, allora c'è qualcosa che non va. Abbiamo scritto al Sindaco chiedendo di intervenire e di relazionarci e non abbiamo avuto risposta, mentre invece il funzionario responsabile del procedimento ha risposto dicendo che questa brochure, questo manifesto, pur regando il logo del Comune, pur essendoci la dichiarazione dell'assessore che ringrazia calorosamente i 30 sponsor, disconosce il manifesto e che il Comune non ha nulla a che vedere con questo manifesto. E allora, visto la non disponibilità dell'amministrazione a rendere conto, i cittadini devono sapere se c'è stata sponsorizzazione, cosa sono serviti i soldi degli sponsor, come mai, nonostante l'intervento degli sponsor, la comunità ha sborsato la stessa somma per la stessa manifestazione, e io credo che non essendo un'azienda privata l'assessore non possa gestire in prima persona flussi finanziari senza rendicontarli. Siamo in attesa di sapere le risposte, nel frattempo ci siamo regati dai carabinieri, abbiamo presentato un esposto denuncia chiedendone agli organi preposti di indagare e di verificare se quello che noi diciamo ha profili di illecita.